Nell'editing dell'immagine, oltre a lavorare in sviluppo, dunque elaborare l'immagine dal punto di vista di esposizione, di luci, di ombre, dunque sviluppo base, abbiamo visto gli effetti, adesso andremo a vedere che anche la scheda locale risulta essere molto importante, anzi fondamentale nell'editing dell'immagine, perché la scheda locale ci consente di applicare modifiche localmente, dunque non su tutto il livello, ma su zone che miratamente noi scegliamo. Prendiamo questa immagine qui e la trasformiamo in un bianco e nero. Allora come prima cosa aggiungiamo un effetto e l'effetto sarà bianco e nero, in realtà loro lo chiamano nero e bianco. Questo è un filtro anche qui con dei set già predefiniti, voi potete vedere qui che passando col mouse come sempre abbiamo tantissimi effetti, vedi dal coffee al deep black, dunque molto contrastato, a gold tonalità diversi, high key, dunque fortemente contrastato e così via. Passando si trovano già dei preset belli, molto interessanti e uno diverso all'altro, se volete creare un effetto antico, ad esempio questo sepia tone è interessante, oppure anche questo snappy warm e così via. Io in questo caso semplicemente scelgo un colore rosso, vedete che è questo rosso qui, però poi l'ho imposto ancora secondo le mie esigenze, perché poi vedete una volta che avete i predefiniti, e qui in questo caso è semplicemente il filtro del colore, che però io aumento un pochettino, lo portiamo a 139, dunque scelgo questo tipo di colore, e poi posso lavorare qui ancora ovviamente sulla luminosità, che aumento, vedete, sul contrasto che lo lascio, però abbasso invece la parte delle luci, e poi aumento un po', guardate, le ombre, i bianchi li lascio, anche i neri li lascio, quelli sono gli estremi, mentre sul dettaglio vorrei avere un po' più di dettagli, vedete? Dunque adesso io mi sono concentrato soprattutto su questa zona qui, guardate se intanto lo disattivo, vedete che qui disattivandolo, torniamo è vero al colore, però vedete che qui non ho tutti questi forti contrasti, però quello che rimane sempre molto chiaro è il cielo, ecco che a questo punto entro nella zona locale, guardate, clicco su locale, e qui posso aggiungere registrazioni, in questo caso col fatto che ho cliccato già sul locale, automaticamente la prima registrazione viene attivata, adesso la cancello un attimo, in realtà io potrei ad esempio utilizzare questo pennello di regolazione, che mi consente di accedere a questa sfocatura regolabile, vedete se clicco qui su questa sfocatura regolabile ho vari tipi di sfocatura, posso creare vignettature forti o più debole, posso creare sfocature dall'alto al basso, dal basso all'alto, destra e sinistra e viceversa, in questo caso mi interessa creare una sfocatura dall'alto verso il basso, clicco, guardate, e avete visto che automaticamente cliccando ho aggiunto una registrazione e questo è giusto così perché è una modifica, è zonale, è una modifica locale, adesso io posso aggiustare questa impostazione qui, qui nella registrazione abbasso ancora leggermente l'esposizione senza esagerare, una cosa così e aumento un po' il contrasto, qui magari ne mettiamo un po' di più, mettiamo 1, 3 e poi guardate con un pennello, con questo pennello qui che è il pennello di regolazione, posso intervenire ancora su questa selezione, dipingere ormai lo sappiamo vuol dire entrare col pennello nero, dunque eliminare una zona di regolazione, in questo caso abbiamo regolato il contrasto e abbassato l'esposizione, però qui sulla casa non vorrei che venisse applicato, se vado a vedere adesso qui in filtro, vista, vedete che ho qui tolto la modifica locale sulla casa, torno a vista e dunque questa è la prima modifica locale che abbiamo fatto, adesso aggiungo una seconda regolazione, dunque aggiungi regolazione e vedete che adesso la maschera per adesso è nera, dunque qualunque impostazione che per default è un'esposizione a meno 1 non viene visualizzata e dunque una volta che ho aggiunto questa nuova regolazione devo definire con un mio pennello il tipo di maschera che voglio ottenere e dunque riclicco su questo pennello per una regolazione graduata, dunque per una sfumatura e questa volta scelgo una vignetta però che va sui bordi non sul centro, adesso clicco, adesso applico la forma giusta, voi vedete che qui sui cerchietti bianchi posso appoggiarmi per regolare e poi sul tratteggiato mi posiziono finché vedo le due frecce per allargare la sfocatura, naturalmente in questo caso aumento l'esposizione, vedete ecco tipo un 045 può andare bene per mettere in esalto la casa più luminosa ho bisogno di ridurre tutto ciò che è attorno come esposizione, aggiungo una nuova regolazione, prendo di nuovo questa impostazione, vignetta questa volta clicco su centro e qui allargo un po' per un passaggio più morbido e l'esposizione la possiamo portare a un meno 060 ok poi eventualmente qui posso entrare ancora nella maschera per perfezionare un po' il passaggio riduco un po' l'opacità, magari un 50% e poi guardate crea dei passaggi qui un po' più morbidi ecco così direi che già possa andare bene adesso guardate con queste regolazioni come sono cambiate le impostazioni di questa immagine guardate senza regolazioni, questa era la nostra immagine bianco e nero e qui con le regolazioni locali siamo riusciti a focalizzare lo sguardo sulla casa che abbiamo reso leggermente più luminosa mentre le zone più dietro sono tutte zone un po' più scure questa zona di montagna dietro che è poco importante è quella più scura e qui vedete i passaggi sono già un po' più morbidi qui posso ancora aggiungere abbassando l'opacità un po' di luce riduco un po' la dimensione del pennello giusto per dare risalto a questa parte qui mentre tutto il resto rimane un po' più l'ombra dunque possiamo gestire con i pennelli, con le sfumature impostazioni locali e poi regolare queste impostazioni locali come regolazione avete visto che sono le regolazioni dello sviluppo base dunque tutto ciò che sono luci, ombre, mezzi toni, struttura, foschia e così via e inoltre potete gestire anche il colore cosa che in questo caso non è importante visto che lavoriamo sul bianco e nero adesso concludiamo il nostro lavoro tornando agli effetti e questa volta applico ancora un effetto aggiungo un po' di contrasto dinamico senza esagerare e qui semplicemente scelgo soft vedete e abbasso leggermente l'opacità una cosa così è più che sufficiente e poi infine vi presento un altro filtro molto bello che è il tono diviso che sarebbe la divisione di toni che crea appunto questa divisione di toni questo equilibrio nelle luci e nelle ombre di due colori che noi possiamo gestire in questo caso adesso per default c'è questo tono caldo e freddo oppure cool vedete oats, ocean, teal che è sul verde e warm possiamo scegliere quello che vogliamo ad esempio se metto un cool a questo effetto naturalmente freddo un oats sono toni abbastanza caldi qui magari lascio nella zona di luce questo giallo mentre nelle ombre preferisco magari scegliere un tono leggermente più freddo e vedete già come cambia l'effetto magari trovo una tonalità più sul viola vedete confermo e poi in questo caso abbasso l'opacità la tengo veramente bassa massimo proviamo con un 25 così è sufficiente si vede poco poco senza dare l'idea che ci sia un tono inserito però dà comunque un aspetto leggermente più caldo ecco e con questo direi di concludere questo progetto dove abbiamo visto come intervenire localmente per gestire la luminosità mettendo in risalto la parte centrale della nostra immagine e rendendo più cupa, più scuro ciò che lo circonda e dunque focalizzando lo sguardo sulla casa e quindi la nostra immagine